Ciao, io sono Tommaso e oggi proviamo a risolvere il problema del video a scatti su DaVinci Resolve. Ne abbiamo già parlato in un altro video, lo trovate qui sopra in alto ed era il primo dei metodi, il più efficace dal mio punto di vista, che è quello di generare degli optimized media, quindi di creare dei file ottimizzati per l'utilizzo dei file più pesanti che abbiamo sul computer. Di solito quando lavoro 4k a 100 megabit per secondo riscontro dei rallentamenti con il video. Oggi quindi cerchiamo di trovare dei metodi alternativi agli optimized media o magari che possono essere complementari agli optimized media che trovate, come vi ho già detto, qui sopra. E diamoci un'occhiata subito. Eccoci qui sulla nostra timeline, all'interno della cartella master abbiamo le nostre clip. In questo caso se vado a scorrere la clip vado ad attivare il live media preview per vederla in anteprima qui. Vediamo che tutto sommato non va così male, non va così a scatti, ma non riesco effettivamente ad essere fluido. Il file che stiamo andando ad utilizzare è un 4k a 25 frame al secondo e un 100 megabit tirato fuori dalla mia Sony Alpha 6003. Opzione 1, ottimizziamo il media. Vi faccio un ripasso velocissimo su come farlo, ma vi ripeto qui sopra trovate il video dedicato solo agli optimized media, quindi andrò molto veloce perché mi interessa mostrarvi delle altre cose. Andiamo su Project Settings, scegliamo la qualità degli optimized media, andiamo a un quarto, scegliamo il formato, salviamo e creiamo il nostro optimized media. Generate optimized media. Giusto il tempo che faccia la renderizzazione della generazione dell'optimized media, ok ha terminato e vedremo che ora il video si vede perfettamente andando a spostarci con il mouse nella preview. Non ha più nessun tipo di scatto. Ovviamente questo file sarà degradato di un quarto, avete visto, solo nel momento della preview. Ma proviamo a fare qualcosa di più invasivo. Cancello gli optimized media semplicemente facendo playback e delete optimized media. Quindi cancello gli optimized media e ritornerò nella condizione in cui sarò di nuovo scattoso, vedete, nella mia preview. Vediamo come si vede nella timeline. In questo caso nella timeline si vede bene. Ok, qua si inizia a vedere già a scatti perché non abbiamo ottimizzato nulla. La prima soluzione che possiamo provare è quella di attivare e creare dei proxy media. Come andiamo a creare i proxy? Andiamo semplicemente all'interno del nostro menu sopra, dove c'è playback, entriamo su proxy media e scegliamo di dargli magari una half resolution o addirittura andiamo in quarter resolution. Vedete che il nostro video è già migliorato e non scatta più come prima. Questa potrebbe essere un'opzione molto interessante. Ma se iniziamo ad avere anche magari, che ne so, degli effetti, iniziamo a inserire dei titoli, magari dei titoli 3D, che sono quelli un po' più pesanti, che danno noia, vedrete che partiamo e qua mi si inchioda per forza di cose il video. Allora, in automatico viene a crearsi questa barra rossa che piano piano andrà a renderizzare il file sottostante. E diventerà già più morbido, vedete? Però si incastra ancora. Si inchioda ogni tanto. Quindi togliamo il nostro file generato di testo, togliamo il nostro proxy mode e andiamo a violentare il computer buttandoci dentro ancora un altro titolo. Titolo che appena partirà, vedete che non sta renderizzando, non sta facendo nulla, ma se io passo sopra, sono sicuro al 100% che mi si inchioderà. Eccolo qua, il file, vedete? Che mi va tutto a scatti. Io in automatico ce l'ho già di default attivata, quindi vedete che sta già partendo l'ottimizzazione del file, quindi la renderizzazione immediata del file. Ma come possiamo andare ad attivare e a migliorare questi parametri? Semplicemente, questo è un tutorial velocissimo ragazzi, ma penso che vi salverà la vita, sempre che voi abbiate però un computer che vi permetta di lavorare umanamente con DaVinci Resolve. Non è detto che questa sia la soluzione, potrebbe essere che il vostro computer non abbia abbastanza prestazioni, soprattutto dal punto di vista di scheda grafica e di RAM, e non vi permetta di lavorare neanche dei file a 1080p con questi metodi, con queste soluzioni. Occorre comunque un computer un po' performante per fare video editing. Giusto per darvi un'idea, questo computer, ve l'avevo già mostrato nell'altro video, però è un Mac Pro con un processore da 3,5 GHz, 6 Core, un Intel Xeon E5, ma quello che interessa maggiormente è la scheda grafica. Sono due schede grafiche MD5 Pro di 500 con 3 GB l'una. E poi non ho neanche tanta RAM perché c'è solo 16 GB su sto computer, però insomma è già un computer prestante, ecco. Allora, torniamo sul nostro file e vediamo se intanto non ha renderizzato completamente, qui vedete ci sono dei buchi. La cosa che dobbiamo andare a fare è playback e andiamo sempre nella nostra sezione qui sotto, invece di andare ad attivare il proxy mode, andiamo a gestire la render cache. Allora, facciamo un attimo una cosa, ve la cancello completamente, vi cancello tutta la render cache e vi faccio vedere che cosa succede. E la disattivo per farvi vedere effettivamente come andrebbe il video. Vedete che va completamente a scatti, tutto il video va a scatti. Quindi la soluzione è quella di andare a attivare la render cache, dandogliela come utente o dandogliela come smart. Cosa vuol dire? Come smart vuol dire che io clicco e lui in automatico, vedete, sta già attivandosi dove ha trovato delle difficoltà. Ha visto che qui cacchio va lento e allora va a scatti, ci sono delle problematiche di renderizzazione e allora in maniera smart, da vincere solo 15 lo fa, forse anche 14, non mi ricordo più. No, 15 e vabbè le 16 beta. Vi permette di andare ad attivare questa renderizzazione smart in background che piano piano migliorerà notevolmente il lavoro. Difatti se noi adesso andiamo a dargli un play, vedete che il video non scatta più in nessuna sua parte. Non scatterà più neanche nella parte dove ci sono i titoli 3D. Quindi, questa è una delle prime soluzioni. Vi dicevo che c'era anche la possibilità di utilizzare un'altra tipologia di render cache, che è quella user. Cosa vuol dire? Vuol dire che se io... disabilitiamo tutto di nuovo. Andiamo a cancellare nuovamente la render cache. Ok. In questo caso andiamo anche a togliere none, qui, di modo che non vada più a renderizzare. E gli diciamo, inseriamo magari un altro titolo 3D, che sono le cose più pesanti. O magari inseriamo una transizione qui. Per inserire una transizione in maniera veloce c'è una shortcut, un comando veloce che è control oppure command più T. Tutte queste shortcut, tutte queste informazioni le trovate dettagliatissime nel corso completo di DaVinci Resolve, che trovate qui sopra o sotto in descrizione. Tra l'altro con un codice sconto, che è ancora attivo, non so per quanto tempo sarà attivo, ma c'è per ora, che è Chiedilo Tommy, che vi permette di avere 50€ di sconto su tutto il pacchetto completo full del corso di DaVinci Resolve. Dicevo, abbiamo fatto una transizione e... In questo caso non sta ad appesantire la transizione, magari la mettiamo qui in mezzo, la transizione. Quindi dove c'è anche il video. Ecco qua che inizia, vedete, a laggare e andare molto a scatti. Quindi la soluzione potrebbe essere selezionare la parte che ci interessa renderizzare, spostarci sempre all'interno di playback, render cache user, clip, render cache fusion output on. Vedete che automaticamente cosa ha fatto? Ha preso la parte dedicata che ho selezionato, quindi da qui a qui, ed è andato a creare una renderizzazione di questo blocco, appunto, da C0072, che è quello che ho selezionato, a C0073, che è l'ultimo file che sono andato a selezionare. Lui adesso sta andando a renderizzare la porzione di video che abbiamo selezionato, in modo da poterla rendere più fruibile, mentre andiamo a cliccare play. Questo quando succede? Succede quando iniziamo a inserire tanta roba all'interno della timeline. Quindi iniziamo a mettere transizioni, iniziamo a mettere titoli, iniziamo a fare più livelli video, iniziamo a far lavorare la GPU del computer e a stressarla. Piano piano verrà renderizzata tutta e poi, una volta terminata la renderizzazione, il risultato sarà questo. Prendiamo play. Questo è un classico problema di Da Vinci Resolve 16, in versione beta. Il programma mi si impianta in questa maniera qua. Quindi alla domanda, scarichiamo e utilizziamo Da Vinci Resolve 16, in versione beta, oppure continuiamo a rimanere su Da Vinci Resolve in versione 15, la mia risposta è tenete la versione più stabile che c'è, ovvero non la beta. In questo caso la 15 è molto più stabile della 16. Aspettiamo che Siria V da Vinci Resolve. Ok, recuperiamo il nostro test dei gatti filmati con la Sony in Slog. Vedete che si ricorda di aver renderizzato da qui a qui. Vediamo se funziona tutto. Non scatta più nulla, vedete? È molto molto più fluido di prima. E questa è un'ottima soluzione per, spero, i vostri problemi. Bene ragazzi, spero che questo tutorial vi sia stato utilissimo, perché siete stati in tanti 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 a farmi questa domanda, seppur ci fosse già un tutorial dedicato a questo discorso. Continuate a seguirmi qui sul canale YouTube, continuate a seguirmi su Facebook, su Instagram, su Twitter, su Telegram. Qui sotto avete tutti i link per seguirmi e per supportarmi. Ricordatevi di iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto, di attivare la campanellina per vedere tutti i nuovi video che usciranno prossimamente, sia nel reparto di DaVinci Resolve che nel reparto di videoproduzioni, di test e di recensioni che questo canale sforna ogni settimana. Non mi resta che salutarvi, ci vediamo con il prossimo video. Ciao!